Il Papa in questo periodo con il documento Fratelli Tutti ci invita a non guardare le differenze ma non in un'altra. È quello che stiamo cercando di fare. Il periodo per l'esistenza di noi è cercato di poter mettere insieme un po' le diverse cose, le diverse cose, le stesse 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 cose. Questo ci comporta anche per fare un dialogo con i genitori, non tutti i quali sono potenti ad avere una mena, quindi non diamo un po' di forza per fare un passo in avanti, e pian pianino e sappiamo il risultato. Quello che vedete alle mie spalle dei bambini della scuola materna, sempre via Proseric, è il primo passo. Abbiamo dei bambini che cominciano alle scuole materne e arrivano fino alla fine del liceo. Sono musulmani e sono molto contenti di fare una percorso con noi. E questo è l'augurio che ci facciamo. Grazie.